Un piccolo prom, un piccolo ultraporto Adesso regista il piano Punga, cacciato da Bollywood Da anni, filma la gesta di un'auto serial killer Ne racconta le abitudini, le ossessioni, le tecniche più segrete Grazie alle più sofisticate tecnologie Punga mostrerà ai suoi fan un piccolo assaggio dei suoi film Alche Punga invadere a Roma con suo ultraporto Massimo Russo che è il direttore di Wild Una rivista spettacolare e fantastica che ha sposato l'innovazione in qualsiasi campo si presenti Ce ne vuoi parlare? Sì, mi fa molto piacere parlarne e mi fa molto piacere parlarne Soprattutto in riferimento all'operazione che faremo qui dal 16 al 25 ottobre Al Maxi a Roma in collaborazione con il Festival del Cinema Noi immaginiamo l'innovazione come il luogo in cui Qui non si parla solo di tecnologia ma la tecnologia è una piattaforma abilitante attraverso la quale nasce nuova cultura Attraverso lo scontro appunto tra il contemporaneo, la tecnologia e la creatività E dunque questa è una cifra che si può applicare a qualsiasi tipo di ambito E questa volta la caliamo nel cinema e cerchiamo di raccontare che cosa sta succedendo Che cosa è già accaduto nel cinema quando il digitale incontra la cinematografia Racconto per immagini tradizionali E quindi avremo il Festival degli Ultracorti Quindi la prima rassegna dove avremo in mostra dei video al di sotto dei 15 secondi Ma avremo anche i grandi, diciamo, le persone di gran successo, i grandi divi del video digitale Come The Jackal, The Pears, Maccio Capatonda e li faremo incontrare invece con la cinematografia tradizionale Su tutto dei momenti di assoluto livello come ad esempio la giornata di domenica In cui avremo Wim Wenders che presenterà il suo documentario sul lavoro e l'opera del grande fotografo Salgado Ecco, tutto questo unire alto e basso, tenere insieme in qualche modo linguaggi, stili pubblici molto diversi E' parte integrante del nostro concetto di innovazione Grazie direttore Massimo Russo e all the best perché lei veramente fa una lista spettacolare Grazie, grazie a voi Grazie a voi